E' deceduto all'ospedale Ruggida Ragura di Salerno il 59enne di Altavilla Silentina, primo paziente della provincia di Salerno, ad essere colpito dal virus del Nilo occidentale, Western Isle. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale, con il sindaco Francesco Cimbalo che ha espresso il suo dolore dichiarando «Purtroppo il nostro concittadino non ce l'ha fatta». L'uomo, già affetto da altre patologie, aveva contratto il virus che gli ha provocato un'encefalite, come confermato dai tecnici di laboratorio dell'ospedale. Secondo le autorità sanitarie, è possibile che la causa dell'infezione non sia stata una semplice puntura di zanzara, ma piuttosto una trasfusione di sangue, considerata la fragile situazione clinica del paziente. Il 59enne lascia la moglie e il figlio Valentino, che gli sono rimasti accanto fino all'ultimo. Il virus, trasmesso principalmente dalla zanzara Culex, era stato diagnosticato a fine agosto, quando l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno aveva diramato un comunicato ufficiale sulla possibile encefalite da Western Isle virus. Nel dubbio sulla causa dell'infezione, il 25 agosto l'ASLA aveva organizzato un sopralluogo nella località Borgo San Martino, dove viveva l'uomo, avviando operazioni di bonifica e posizionando trappole per monitorare la presenza di zanzare. Gli esami condotti dall'Istituto Zooprofilattico di Portici sui primi campioni di insetti non avevano rilevato tracce del virus, rafforzando l'ipotesi della trasfusione. Le condizioni del paziente sono rimaste critiche fino al tragico epilogo. La comunità di Altavilla Silentina, dove la vittima era conosciuta e ben voluta, è sotto shock. Numerosi messaggi di gordoio sono arrivati alla famiglia, anche da parte delle autorità locali. L'ultimo saluto si terrà oggi in una chiesa di un comune vicino. Nel frattempo le operazioni di bonifica e controllo delle zanzare proseguono nei quartieri di Mitrofi per prevenire ulteriori rischi sanitari. Intanto nel Cilento c'è apprezzione per il 78enne di Agropoli. Arrivato all'ospedale San Luca una decina di giorni fa, affetto dal virus Western Isle, è trasferito in gravi condizioni all'ospedale Cotugno di Napoli. Cotugno di Napoli